Vi siete mai chiesti quale è il significato della parola discussione? Basta! Penso, ti è arrivato il momento di discutere sulla scuola che dovresti scegliere dopo le medie. Ad esempio, un luceo mi sembra adatto. Non credo, io amo l'arte e vorrei iscrivermi in una scuola dove posso iscrivermi con il disegno, i colori e le manite. Che cosa farai dopo? Assolutamente no! Basta! Questa esclusione finisce qui! E meno male che dovevamo discutere! Oh, ma è bello! Assolutamente Roma, ma che dici? Hai mai visto tutti! Basta, non giochiamo più! Come il solito, perdiamo sempre più tempo a discutere che a giocare. Ehi, allora, che vuole fare? Che stava provocando l'incidente? Ma guardi, signora, io la precedenza, perché sono una rotatoria. Ma quale rotatoria, rotatoria? La precedenza è da destra, non lo sa? Guardi, tanto non è successo niente. Posso mandarci, è tardi. Lei non ce ne va per niente. È inventata e mi è poi segnata la macchina. Basta, adesso chiamo i gabinieri. Penso che anche oggi il mio figlio dovrà entrare sul lavoro. Scusa, ma perché non vi avete fatto fare i lavori di gruppo con voi? Ma non è colpa mia. Ma noi siamo amiche, dovevi convincere gli altri e voglio studiare con voi. Basta, ma non ci penso. Basta, ma non ci penso. Basta, basta e basta. Quando non si riesce ad avere una discussione costruttiva, tutti vogliono concludere il discorso. Discussioni. Esame approfondito di un argomento da parte di più persone che confrontano il loro punto di vista. La discussione è anche uno strumento importantissimo all'interno del Parlamento. Infatti, dal confronto delle diverse opinioni dei deputati, derivano le leggi del nostro Stato, che devono migliorare la vita dei cittadini italiani. La discussione è una cosa seria! Ciao!